Finisce con una vittoria, con una goleada questa partita, sette gol di cui sei arrivati nel secondo tempo. Abbiamo fatto una buona prestazione e nel secondo tempo abbiamo giocato meglio del primo, abbiamo preso le misure del campo che è molto piccolo, molto stretto e abbiamo fatto bene nel secondo tempo. Partita molto fisica, ci sono state tante occasioni, avete avuto tante occasioni, tutte però verso metà campo, non siete mai arrivati al limite dell'aria? Sì, è sempre dovuto alla misura del campo, essendo molto stretto ci faceva giocare così, riuscivamo a dare il meglio così, con le conclusioni da fuori. Una domanda sulla classifica, almeno per un po' di ore sarete primi in testa, secondo te cosa c'è ancora da mettere a posto? Allora, manca ancora tanto e c'è tanto da fare e dobbiamo mettere a posto la mentalità, dobbiamo giocare sempre così, sempre dare il massimo senza lasciare niente indietro. Perfetto, grazie mille e buon prossimamente di stagione. Grazie. Grazie a tutti.